Ciao ragazzi e ciao ragazzi, eccomi tornata in ritardo con i video top Il video sui prodotti top make up del 2016 Poco fa ho fatto una live su Instagram, ultimamente mi diletto E devo dirvi anche che, come dico sempre nelle live, credo di essere l'unico a cui Instagram dia l'ultimato Tipo ai 20 secondi per finire la live, perché le mie live durano un'ora Una, non so quanto sia il limite massimo, comunque il limite massimo, al limite massimo ci arriva sempre I prodotti top sono praticamente, essendo top, automaticamente quelli che io utilizzo tutti i giorni Quelli che ho utilizzato tutti i giorni per il 90% sì, nel 2016 Quindi sono anche di conseguenza quelli che mi chiedete sempre che io indosso Che cosa indossi, che foto indossi, eccetera eccetera Non ho inserito, ho già ne... questa parte a parlare così Non ho inserito né mascara né matite nere, perché quelli li ho cambiati periodicamente Magari un mese utilizzavo un mascara, poi il mese dopo non utilizzavo un altro Però vi giuro che i prodotti che adesso vi mostro sono quelli che da quando li ho comprati li ho utilizzati Cioè ho utilizzato solo loro, gli altri proprio li ho tipo levate e ho utilizzato solo questi che ora vi mostro Inizio subito da questo qui, che è uno scrub viso biologico esfoliante Questo qua è dei provenzali, che vedrete molto presto se non l'avete già visto nella Night Routine In pratica, in breve vi spiego un attimo Io ho la pelle molto, ma molto, 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 molto sensibile Quindi appena tu mi fai così, io divento paonazza come un peperone Quindi tutti gli scrub che io ho provato in passato mi irritavano, ma non solo Praticamente, vabbè, naturalmente la sensazione di pelle liscia c'era Però era soltanto temporanea perché a una certa mi uscivano fuori tutte le imperfezioni Quindi faceva l'effetto contrario Questo qua invece è super, iper, mega, delicatissimo Però nonostante questo dà un effetto comunque di pelle liscia al viso Certo, essendo così lieve comunque l'effetto scrubbante Io almeno lo devo fare una volta ogni due giorni Però naturalmente non so tutto il viso Io lo faccio solamente nella zona del naso, soprattutto qua ai lati delle narici Qua sul mento e qua in mezzo alla fronte Comunque quando vedo che io ho la pelle secca O comunque c'è qualche pellicina Vado con questo e risolvo il problema Non so dove potete comprarlo Questo me l'hanno inviato, però non me pagano Quindi niente, però è molto buono Come fondotinta, tipo lo sto guardando tipo Essere o non essere, questo è il problema Sto utilizzando da quando l'ho comprato sia 3-4 mesi Il Super Stay 24 ore di Maybelline In realtà io prima, vi giuro, non mi ricordo quale usavo Credo sempre il Fit Me della Maybelline Vabbè E dato che mi è finito e dato che non l'ho più trovato E sparito Ho voluto provare questo Io sono molto diffidente Nel provare nuovi fondotinta Infatti ho detto Speriamo Bene, vabbè Proviamo Naturalmente non dura di certo 24 ore Però Però sta lì Mi piace molto l'effetto È coprente Anche se ultimamente Per fortuna Ma domani Tutto il contrario Per fortuna non ho grandi imperfezioni Grandi cose da coprire Se volete anche scrivetemi Se volete che faccia una Come si dice? Un video sulla base La fondation routine Sì, faccio YouTube da 4 anni Ma ancora non so parlare I termini tecnici Ha un effetto naturale sul viso Copre Ha una coprenza media E resta quelle 6-8 ore E non c'è neanche tanto bisogno di ritoccarlo Io Mi lucido abbastanza facilmente Però con questo fondotinta Diciamo che ho bisogno della cipria Dopo 3-4 ore Quindi La metà del tempo Quindi va bene Come correttore vi consiglio Il Catrice Camouflage Cream Io ce l'ho nella tonalità 025 Rosy Sand Se riesco ad aprirlo Ed è questo qua Vedete? Una mazza Comunque C'è già la sua bella conchetta E Essendo cremoso Questo dovrebbe andare sulle imperfezioni Io lo utilizzo sinceramente Per le occhiaie E sapete che io Ho proprio di natura Le pieghette Insomma Le piccole rughette qua sotto gli occhi Però Questo qua funziona Cioè Non dico che non mi va nelle pieghette Certo Quando capita Basta che io faccia Così Un attimino Ci metta Un pelino di cipria E il problema è risolto Capre molto 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 bene A volte lo utilizzo anche qui Ai lati del naso Per dare un punto di luce E niente È veramente buono Costa pochissimo E L'ha promosso anche io quindi Non ero un amante del contouring Fino a quando A Milano Ho detto Vabbè Entriamo nella Alla NYX E vediamo che ci sta Mi sono presa questo E mi sono presa anche Questa qua Allora in ordine Questo è uno stick Per il contouring In realtà Io odio Gli illuminanti E Sul mio viso Fa Cioè praticamente L'illuminante Da un effetto Tipo olio Quindi non mi sta bene Quindi la parte illuminante È in tonza Integra Non l'ho toccata Mentre Ho abusato Della parte Vedete Della parte Del Appunto Della terra Comunque stick Io questo qui Lo uso così E così Basta Sfumo Si sfuma veramente bene Il colore Non è troppo aranciato Ma non è neanche troppo freddo E dopodiché Vado sopra Proprio carico Ci spiaccico sopra Le polveri Io non credevo In realtà Nel contouring In polvere Cioè In realtà Io Non credevo Che facesse Differenza Comunque il contouring No? Però poi Non l'ho più abbandonato Io sto utilizzando Tantissimo Eh Vabbè Sta cialda qua Se n'è andata Ha deciso di suicidarsi Però per fortuna Era Un illuminante Quindi Mi è andata bene Sto utilizzando tantissimo Questo qui Per il periodo Insomma Quando sono pallida Mentre In realtà Questo qui L'utilizzo anche come blush Perché è abbastanza calda Come cialda Però L'utilizzo d'estate Questo qua L'utilizzo un po' tutta Diciamo La palette Perché utilizzo anche Le parti chiare opache Da picchiettare Qui Quando appunto Decido di fare La parte chiara qua Vabbè Avete capito Niente È costata 22 euro Però ho detto La voglio provare Cioè Ero curiosa E questa qua È la numero 01 Tutto riflettente Vedete Niente Per sbrigarmi Come palette Sugli occhi Ho utilizzato Praticamente Questi colori qua Della Naked Ho utilizzato Tantissimo Back Naked E ogni tanto Ho utilizzato Anche Gunmetal E Smog Vedete Tranquilli Si sfumano Super bene Sono super pigmentati E quindi Vabbè La palette Naked La conoscono Tutti Quindi Non mi dilungo Oltre Ovviamente Non poteva mancare La categoria Sopracciglia Perché sapete Che io Da qua A qua Cioè Dal punto più alto Dell'arcata Fino alla fine Non ho sopracciglia E Questo non l'ho utilizzato Oggi Perché Proprio Mi manca Proprio Un millimetro Quindi lo sto Centellinando È sempre Della NYX Non mi paga La NYX Però mi sono Innamorata È Il pennino Praticamente Che da un lato Ha Appunto Vedete Mi è rimasto Solo sto pezzetto La La mina Super mega Proprio Iper Ultra Fine Quindi Da proprio Una precisione Incredibile Dall'altra C'è il pennellino Che però Io non utilizzo Perché qua In realtà Non c'è molto Da pettinare Sono già tutte Lì in posizione Sull'attenti E basta Questa è L'espresso Non so se Io l'abbia Già detto È molto Molto Buona Il colore Per adesso Va bene Tornerò Ma ora Vedete La ricrescita Che incombe Ok Quindi Cria Ora di farti Di nuovo Castana E Ma non c'entra Niente Questo Ha una mina Micro Infatti si chiama Micro Brow Pencil Ed è veramente Buonissima Mi piace tantissimo Mi dispiace perché Devo comunque andare a Milano Per ricomprarla O a Roma Ma credo che andrò a Milano Dici Roma è più vicina di Milano Sì Però vuoi andare a Milano Ultima categoria Matite labbra E tinte Che credo che sia La categoria Che vi interessa di più Perché Su ogni foto Che metto su Instagram E sotto ogni video Mi dite E mi chiedete Che cosa hai sulle labbra Che tinta usi Che matita hai Allora Come matita labbra Io Utilizzo tantissimo E saranno Questa sarà la quarta volta Che la ricompro Questa la Terza Allora Come matita più scura Utilizzo Della NYX Scritto Mauve Mauve Vediamo se riesco a farvelo vedere È proprio un color malva Molto molto bello Opaco La matita La mina Non è né troppo dura Ma né troppo morbida Quindi disegna il contorno labbra Però Non va In giro Non si sposta E Di solito Ha quella matita Ciabbino La tinta Sempre della NYX Liquid Sweat La numero 04 Che è questa Ora vi mostro Che praticamente Utilizzo Tutti i giorni Adesso la vedete lucida È quella Più in basso La vedete lucida Però Quando si opacizza È una cosa Meravigliosa Come matita più chiara Invece Vado da Kiko Proprio vado E prendo la 700 È un pochino più aranciata Un pochino più nude È quella Sopra E questa qui O la utilizzo da sola Perché dà un bellissimo effetto Anche questa La mina È ottima È fantastica Mi piace tantissimo E di solito Ma anche sopra l'altra matita Di solito Io metto Sempre della NYX Però questa volta Della Della linea Lingerì Il numero La tinta Numero Numero 06 Push up È questa qui di lato Vedete anche questa Va bello Appena applicata Quindi è molto lucida Adesso È un pelino più rosata Però Quando si asciuga Anche questa Cioè Sembra che abbiate Il velluto Sulle labbra Cioè Sembra che abbiate Proprio una pellicola Non evidenzia le pellicine Nulla Assolutamente E quando invece Voglio andare proprio A caricare Voglio andare a caricare Le labbra Tantissimo Non vado sul Classico rosso Però vado sempre Con una tinta di NYX L'ho messa Accrescentemente Su Instagram Questa è sempre La NYX Liquid Sweat NYX Pad Sto scherzando Però Se vuoi E questa è la numero 03 Ora vi faccio Lo swatch Anche di questa Ed è appunto Ovviamente Quella più scura In camera Sembra un po' Più rosso Però in realtà È proprio Borgogna Vedete È un pelino più scuro Comunque se andate Su Instagram Una delle mie Cioè lo indosso In una delle mie Ultime foto Quindi lo vedete Proprio con la luce Naturale Niente Io ho finito Tutti i prodotti Che ho utilizzato Di più nel 2016 Non vi ho mostrato Cipre perché Mascara Ma di tenere Eccetera Perché alla fine Quelle sono intercambiabili Insomma Non è che utilizzavo Sempre la stessa Io spero che questo video Vi sia stato utile Ecco Sono già Bacchiata a tutto Io spero che appunto Questo video vi sia stato utile Fatemi sapere Quali sono i prodotti Che avete utilizzato Se sono economici Meglio ancora Così li vado a comprare Anche io Io vi mando un bacione E vi ricordo che Cioè vi ricordo Non ve l'ho mai detto Che questa settimana Comunque a breve Uscirà la La Il backstage Di cui parte la ship E appunto La nitroutine Vi mando un bacione E ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao